La Solot guarda il futuro e si concentra sui bambini. È un progetto tagliato a misura di bimbo, quello presentato nel rinnovato mulino pacifico di Benevento. La struttura di via Pio Claudio ha un volto più bello grazie al progetto Cungrano Salis, e ha scelto di presentarlo lasciandosi travolgere dal sorriso dei più piccoli. Erano tantissime le famiglie che hanno preso parte ad un pomeriggio speciale, pensato per scoprire come crescere con il teatro. Laboratori, stage, incontri con i genitori, soprattutto uno staff fatto di giovani, di docenti dinamici e di attori bravissimi. E naturalmente le fiabbe che ogni fine settimana accompagneranno i nostri bambini. Perché? Perché i bambini sono il futuro e noi inseguiamo il futuro. Tornano però naturalmente anche gli spettacoli teatrali per gli adulti. Da metà novembre fino a maggio vedremo tanti spettacoli molto belli di compagnie provenienti da tutta Italia e segnalerei qualche chicca, tipo la partigiana che andrà in scena il 25 aprile, che sarà il nuovo allestimento della Solot, dedicato a Maria Penna, la partigiana beneventana, che diede la vita per la libertà di questo paese.